Sono moderatamente preoccupato, però sono anche abbastanza consapevole che noi abbiamo stabilito una data sbagliante, nel senso che nel momento in cui si accorgiamo che lo diventano a passare senza il tutto il tuo periodo, e allora, il tutto il terreno costruito, dove si può invadire a quel punto di iniziare. Perché la cosa, secondo me, è una cosa che è sfuggita da tutti, no? Quindi poi ci domandò, in un lato della solidità economica che ci sarà il chiesto di la programmazione all'interno, però è rispito un pochino, ovviamente, tanto il studio, può focalizzare anche alcuni posti di venditoriali all'estero, e poi ci sarà abbastanza risposta di noi, quindi il studio potrà essere il vincolo per fare un messaggio che la partecipazione è sfuggiabile, che è la vera, 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 accortata in maniera vicina, perché magari in sala con una piccola quota di partecipazione, e poi secondo me la cosa è stata aggiunta sempre, e anche se c'è una broma positiva da avere un'estate e concitore delle realità della situazione di quale si abbia accenduto in questo senso e assolutamente messo in fine stessi 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 stessi, e ha un grosso valore, no? di fare cazzo, ma io rispondo che certi di noi lo faccio benissimo e dovessi prendere le messe in distanza di fare cazzo, ma fare cazzo veramente perché in Italia conosce cazzo da fare l'interno, a me ne sono quasi tutte le quei cazzo, questo è quello che avrete un diavolo di resistenza. No, no, adesso stiamo sperando di trovare una votazione di me, non la galera di me, ok? Sì, perché poi io, la stitura è una parte, ma secondo me lì è difficile fare cazzo. E' mi fiorno. 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 No, beh, ha detto tutto. E' mi fiorno. E' mi fiorno. Ti torna anche con una visione che abbiamo ospitato in attenzione sporta di Mario Agnelli, che ha avuto... E' una persona inesperta di caso. Esatto. Chiariscono ancora meglio di lui. E quindi si è fatto guidare da chi doveva essere l'aspetto. Gli soldi in ammessitanti, eh? Eh, appunto, volevo dire, forse non si è preoccupato un attimino di andare oltre quello che poteva essere. Ecco, forse l'unica... Gli soldi in ammessi, insomma. No, no, no. Non si può certamente dire che non abbia tutte le volte a riempire, a tutto quello che doveva riempire. Sarebbe una bugia patetica dire. Dove essere forse un pochino più attento, ecco, questo... Più attento e, come ha detto Bernario, bisogna guardare il tuo aspettivo nel futuro. Grazie. Grazie.